Salve ragazzi, in questo video vi spiegherò come scaricare e installare gratuitamente la nuova suite iWork di Apple in modo totalmente legale. Per poter scaricare la suite di iWork gratuitamente, l'ultima versione naturalmente, dovete andare a scaricare i trial di 30 giorni di iWork 09. Vi metterò il link nelle ulteriori informazioni del video. Una volta scaricato, lo andrete a installare, inserite la vostra password, e ora aspettate che fa l'installazione, che porta a termine l'installazione. Perfetto, ora che l'installazione è finita, clicchiamo su chiudi e andiamo a far partire Pages, mettiamo conto, o quello che volete. A questo punto andrete a cliccare su Prova. Si aprirà questa schermata, clicchiamo su Annulla e automaticamente, teoricamente automaticamente, adesso qui non me la fa vedere, comunque vi si aprirà un pop-up in cui vi dirà che è disponibile un aggiornamento per Pages e si aprirà App Store, clicchiamo su App Store, clicchiamo su Aggiornamenti. Come vedete, ci sono due aggiornamenti disponibili, Keynote e Numbers. Teoricamente dovrebbe essere anche Pages. Ecco, non so che cosa gli era preso, comunque adesso mi fai vedere gli aggiornamenti di tutti e tre i programmi, quindi Keynote, Numbers e Pages. Adesso chiudo Pages, provo a scaricare intanto uno. Metto la mia password. E sta scaricando. Ricordo che questo è un metodo totalmente legale, non sto usando crack, non sto usando seriali, è semplicemente una possibilità che Apple dà a tutte le persone che provano iWork. Bene, spero che il video vi sia piaciuto. Volevo solo dirvi che il 21 gennaio sarà il mio compleanno, compierò 30 anni. Il 22 gennaio è l'anniversario del rilascio del Macintosh, del Classic Macintosh. Che compie anche lui 30 anni, quindi il 22 gennaio. E festeggio anche il sorpasso del milione di visualizzazioni. Quindi pensavo di fare qualcosa di speciale. Non so, un video, qualcosa del genere. Se avete qualche richiesta particolare per un video, mettetela nei commenti. Magari sceglierò quella più apprezzata. Oppure pensavo anche di fare un video dove andrò a rispondere alle vostre domande. Quindi se avete domande, mettetele nell'ulteriore informazione del vidne, scrivetelo nei commenti. Avevo sito anche su Facebook, ma nessuno ha risposto. Quindi ricordo di mettere mi piace alla pagina su Facebook. Quindi ecco, ricordo, se avete richieste particolari, scrivetele e io cercherò di soddisfarvi. Saluti a tutti.